Questi barbari attentati rischiano di inquinare una vita sociale e un progresso di civiltà. Dobbiamo fare tutto il possibile perché la libertà di stampa, la libertà di opinione, di satira, che è un fondamento per la libertà dei popoli, possa essere sempre affermata. Non solo in Europa, in tutto il mondo.